Bentornati, seconda parte di No Problem Ippica, come avete sentito in precedenza, riservata in particolar modo alla criticità del nostro settore, puntata molto accesa perché ci sta un confronto, un dibattito sempre importante fra le varie categorie che abbiamo oggi qui presenti e poi che sentiremo anche in collegamento telefonico. Io rinzierei il giro di opinioni arrivando al terzo punto, Onorevole Masini, il discorso delle soluzioni o quantomeno delle prese di posizioni da quello che avverrà nel 2012. Permettetemi una chiosa su quello che ho ascoltato fino adesso, anche piccola. Ribadisco che l'Ippica non deve andare in confessionale per quanto è successo durante la gestione di questi ultimi quattro ministri che si sono avvicendati. Non deve fare l'atto di dolore perché non si deve contrire, non deve dire neanche treppate, rava e gloria. Questo è il dato essenziale di cui tutti devono essere convinti perché se non siamo convinti di questo e allora dobbiamo accettare tutto e allora accettiamo supinamente, mi fa specie di averlo sentito, da un allevatore che si è visto cancellare dalla mattina alla sera i piani allevatori. Ma come? E che cos'erano se non provvidenze della politica in favore dell'allevamento? Erano quattrini, erano soldi, soldi che già sono spariti e che oggi con questa presunzione di montepremi e che oggi con la presunzione di castigare ancora di più il cavallo italiano al traguardo permettendono il premio aggiunto esclusivamente a due o tre anni e solo se vince, io vorrei sapere gli allevatori che cosa alleveranno più. Ma allora i cosiddetti procacciatori di cavalli a mille euro o a mille sterline, ma devono proliferare se questa è la posizione degli allevatori e non è una posizione di forte incazzatura, perdonatemi l'espressione, verso l'esterno e non verso se stessi. Ma dico di più, io amo leggere ormai da ex parlamentare gli interventi che vengono fatti su un capitolo fondamentale che venne richiamato anche dal Presidente del Consiglio quotidianamente, Monti dice io devo coniugare il sociale con dei tagli ma anche con una ripresa, ma anche con una ripresa di che cosa si intende? Allevamento, si intende gioco, si intende scommesse, io non vedo proprietari, ipodrome, si intende tutto quello che ci sta dietro il settore e allora come lo vogliamo rilanciare questo? Qual è l'etica sociale di questo governo? Io non ho nulla contro i concessionari, ma sono anche stanco, io vengo dai Castelli Romani e dai Castelli Romani fino a Roma ho sentito quattro volte una promozione sulla radio che diceva fatta una bella giocata a poker, falla magari con un po' di discrezione, non ne spende troppi desordi però gioca a poker, ma questa è l'etica, io chiederò formalmente visto anche che Santa Romana Chiesa insiste a dire i cattolici si impegnino in politica, ma si impegneranno in politica a difesa dell'occupazione giovanile, a difesa dell'emersione del nero, a difesa della morte di un settore e di giovani che invece si devono andare a ammazzare infilando quattrini nelle macchinette o giocando a poker online, io credo che sia socialmente e eticamente più corretto coniugare i due sistemi, io capisco che il gioco oggi è diventata la seconda entrata dello Stato italiano, però viva il Dio, ma che il gioco debba servire a cancellare un settore che per primo ha inventato il gioco sociale, ovvero sia la scommessa ippica che serviva a tenere in piedi tutto un settore produttivo, oggi improvvisamente le colpe sono degli ippici, no a questo non ci sto, perdonatemi, non ci sto. Allora, mi sembra che devi aver capito le parole di Mario Masini, comunicazione e rilancio delle scommesse, cosa principale per dare una ninfa nuova al nostro settore, Pierluigi. Allora, io non faccio altro che aprire il piano a pagina 10, a pagina 10 innanzitutto ringrazio Mario perché ha completato la mia esposizione e quindi ha risposto con parole che vorrei fare mie all'interlocutore, al Dottor Corarieti e non intendo aggiungere altro perché mi sembra che le posizioni siano ben chiare e ben niente. Allora, andiamo a pagina 10 e leggiamo, dopo aver detto appunto che si prevedeva, cioè che l'ufficio del Ministero avrebbe previsto di eliminare il cavallo da corso a redditometro, passiamo al punto B, sollecitano il Ministero, cioè il Ministero del Mipaf, dove avrebbe dovuto sollecitare il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la messa a punto di un piano di sviluppo di scommesse ippiche a più elevato payout, appetibilità e di non innovatività. Il portafoglio alle scommesse ippiche merita una serie di interventi per definire una gamma di offerte appetibile ed innovativa. Ciò si può ottenere attraverso, punto 1, la parificazione delle scommesse sportive, del ritorno medio allo scommettitore, quindi parificazione delle scommesse sportive. Revisione dell'eppica nazionale, quindi abbiamo detto revisione dell'eppica nazionale. Sviluppo e promozione della scommessa ippica a quota fissa, oi boh, ma che se sempre scherzi a parte. Rimozione degli ostacoli alla scommessa telematica. Scusate, lancio la provocazione. Faccio rivedere un attimo cosa c'è scritto. C'è scritto, ma lei legge, fallo vedere, perché se non può pensare, questo l'ha scritto per Luigi D'Anno. Questo qui l'ha scritto in Mipaf, dove adesso siede l'ultima nostra speranza. Lancio una provocazione, Roberto Paticoni. Il quarto ministro di questa legge. Si può parlare con questo AMS, non si riesce a dialogare, non si riesce a fare un tavolo di lavoro con AMS. Adesso facciamo parlare Roberto, che ha scritto una lettera con AMS, però chiariamo bene un punto. Cioè qua sono tre anni che un ministero ha fatto un piano e ha detto per iscritto, e mi ricordo quando noi siamo andati a parlare con il dottor Letta, il dottor Letta immediatamente disse, un tavolo, aprì tre tavoli quella sera, anzi quel pomeriggio, tavolo al ministero dell'agricoltura, tavolo presso il ministero delle finanze, tavolo presso il ministero dello sviluppo economico. Queste cose, siccome vengono tutte registrate, perché ringraziando Dio a oggi il progresso moderno, abbiamo una serie, questo tutte registrate. Io sono uno che le carte se le conserva, vedete qua, se io mi metto a frugare in queste carte, c'è da far vergognare i ministri, i sottosegretari, volete, poi un giorno di questo mi chiamate e vi leggo tutte le dichiarazioni di Galan, da che iniziate a fare il ministro Allora, la provocazione che avevamo lanciato per il discorso di AMS. No, noi avevamo fatto una provocazione anche noi all'AMS, abbiamo mandato una richiesta, io e Pasquale Esposito per partecipare a una riunione che doveva avere l'uffo con loro, mi mettono il pomeriggio alle 4, la mattina dopo alle 10, abbiamo ricevuto una telefonata all'AMS, infatti ho detto che il telefono non ci sono come me, perché io mi ritengo, nell'Ippico, uno normale, con la cultura di Dottor Masini oppure di D'Angelo, cioè io dico il telefono e mi hanno dato delle spiegazioni, che se sto qui a dire, ci fanno due ore perché sono stato due ore al telefono con l'AMS. Si giustificavano, Roberto? Si, si giustifica dicendo non è colpa nostra. E di chi è la colpa? La colpa è del settore. E del settore. E del più classico degli scaricabarii. Allora andiamo a sentire anche che abbiamo in collegamento telefonico, un altro collegamento importante, è con il Presidente dell'ANACT Alessandro Viani che saluto. Buonasera Presidente, benvenuto a No Problemi Ippica. Buonasera a tutti voi. Allora Presidente, come sa, c'è Pierluigi D'Angelo, Mario Masini, Roberto Faticoni, Luigi Migliaccio e sulle immagini proprio dell'ultima asta ANACT vorremmo sapere un po' la posizione della vostra associazione in base a quello che è accaduto ultimamente con l'informativa che ha dato il Dottor Ruffo del decremento del 40% per quanto riguarda il settore per il Montepremi. E poi una domanda mi viene spontanea. Ma chi ha comprato i cavalli quest'anno, sia Cavoppo che Trotto, e si ritrova questo decremento il 40%. Come ci è rimasto? Certo ci è rimasto malissimo, ma la colpa principale, anzi per me l'unica colpa è dell'AMS. L'AMS è stata la nostra rovina. L'AMS ormai pensa solo a gate vinci, al bingo, al poker. Adesso perfino fanno i cavalli virtuali. L'AMS non è un ente privato che può fare per guadagnare fa quello che vuole. È un ente pubblico, deve guardare al sociale. E purtroppo non guarda al sociale. Noi nell'Ippica abbiamo 50 mila famiglie, abbiamo più di 100 mila ettari, ettari di terra di allevamento e indotto allevamento. Quindi è questa la base. È dello Stato. Lo Stato deve guardare al sociale. L'AMS non lo fa assolutamente. Qui è dove noi dobbiamo attaccare l'AMS. L'AMS non è un ente privato. L'AMS deve aiutare l'Ippica perché socialmente l'Ippica dà lavoro a 50 mila famiglie. Aiutare, scusi Presidente, in che senso? Per riformare le scommesse? Altro che riformare le scommesse, fare pubblicità. Comunicazione. Non spendo una lira sulla pubblicità, mentre fa pubblicità su tutti gli altri giochi che fa. Quello che ha detto poc'anzi Mario Masini. Io non l'avevo sentito, sono stato incollegamente. Infatti sono d'accordissimo con l'onorevole Masini su questo. Bisogna, è l'AMS la nostra vera nemica. E bisogna lottare contro l'AMS. Presidente, la vostra posizione dell'ANACT alla luce di questa situazione, nel 2012, cosa farete voi con i vostri associati? E poi parleremo anche perché logicamente ci saranno delle elezioni e diremo anche di questo. Ecco, domani ci sono delle elezioni. Quindi io posso anche non essere eletto. Esatto. Quindi non è che voglia, ecco, vorrei su questo argomento, posso dire la mia posizione. La mia posizione, ripeto, la mia posizione personale, poi dopo chi sarà, sarà il Consiglio che decido, il nuovo Presidente, quello che sarà. La mia posizione è di fare un'azione di tutte le categorie, un'azione legale contro l'AMS, un'azione di responsabilità. Io sono pienamente convinto di questo. Bene Presidente, lei ha detto che ci saranno le nuove elezioni il 3 dicembre, in 12 regioni mi sembra si voterà, lei si ripresenterà e poi il fratello Pierluigi D'Angelo, Marco D'Angelo. Un in bocca al lupo a tutte e due. Noi gli altri anni, nel 2008, avevamo fatto il confronto insieme a Riccardo Targioni, se lei ben ricorda. Avete potuto esporre i vostri programmi, logicamente quest'anno non lo facciamo, ma non perché, giustamente, non c'è Marco D'Angelo, c'è Pierluigi, ma non sarebbe nemmeno, io credo, il momento adatto. Tanto gli allevatori hanno già sentito i programmi, sanno chi votare e decideranno con libera scelta. Giusto Presidente? Giustissimo. Giusto Pierluigi? Io faccio un in bocca al lupo a Sandro, non lo posso fare perché ho dei perchi di fare, però comunque gli faccio i complimenti. Perché venga al migliore lo puoi dire. No, io gli faccio i complimenti per quanto ha dichiarato questa sera, perché le sue dichiarazioni sono in linea con il comitato di crisi e fondamentalmente comunque penso che sarà un compito arduo del Consiglio Lanact cercare di continuare a produrre i cavalli migliori del mondo e tra l'altro tra i cavalli migliori del mondo c'è certamente Varenne che è stato appunto allevato da Sandro Viani. Soltanto Sandro, solo per questo avrai per sempre la mia gratitudine. Guarda che sfortuna. Io ringrazio Pierluigi che a di fuoco di tutte le nostre diciamo piccole lotte interne siamo uniti in questa lotta. Assolutamente, c'è una grande stima per la tua persona. Anche mia verso di te. Presidente, noi andiamo a vederci qualche immagine di Vensen, perché? Perché i trottatori italiani stanno facendo veramente grande il nostro trotto con tantissime vittorie. Ecco, proprio sulla base di queste immagini magari qui non ha vinto il cavallo appunto, se non sbaglio non solo Bar, non ha vinto e terminato quinto, però ieri è vinto l'Ebene LRL e quindi è iniziata la grande il Pritinvern di Vensen. Io le chiedo sul discorso delle provvidenze. Ecco, le provvidenze, appunto c'è stato questo decremento, come sappiamo tutti quanti, la linea in pratica secondo voi è giusta o quantomeno c'è ancora uno spiraglio di avere le provvidenze per gli allevatori? Innanzitutto bisogna sapere esattamente quanto sarà il Montetreni. Il prossimo anno, certo si parla di un decremento del 45%, noi le provvidenze lotteremo sempre. Dobbiamo anche ricordare che negli ultimi due anni precedenti i famosi 21 milioni sono stati strappati, lottati perché il Ministero diceva che le provvidenze erano aiuti di Stato e questa è stata una lotta dura che abbiamo fatto come ANAC e siamo riusciti a averle. Poi purtroppo, purtroppo devo anche dire che il penultimo segretario generale Toraccia ci ha scippato le provvidenze perché era l'unica posta nel mese di dicembre che poteva prendere. Siccome le provvidenze vengono date da marzo, aprile e maggio, in dicembre c'era ancora la posta nel bilancio diciamo ancora libera e ha preso questi soldi. Questa è la verità. Ci ha scippato le provvidenze. Noi lotteremo, cercheremo di fare il possibile. Purtroppo dobbiamo fare dei sacrifici su questo perché se il Montepremio è ridotto, come si dice, del 45%. Quindi gli allevatori del trotto non hanno abbandonato le speranze di avere almeno, come diceva prima Pierluigi D'Angelo, un contributo per queste provvidenze che hanno portato l'eccellenza del trotto italiano a Parigi. Lo vediamo anche dalle tante vittorie che stanno effettuando i nostri trottori. Certo, certo. Le provvidenze è la base per un allevatore, è la base di cui è la sopravvivenza degli allevatori. E soprattutto disperdere questo patrimonio genetico che abbiamo creato in questi anni è una pazzia pura. Oggi, come ripeto da sempre, siamo il primo allevamento al mondo. Se solo pensiamo che a Vincenzo dall'inizio dell'anno abbiamo vinto più di 54-55 corse, in Svezia più di 100, dimostra che nonostante tutte le difficoltà, gli allevatori italiani hanno creato dei campioni. Disperdere questo patrimonio è una pazzia pura. Bene, io Presidente la ringrazio, le faccio un bocca al lupo per le elezioni, vinca il migliore. Esatto, un saluto a tutti i presenti e arrivederci. Bene, ciao. Grazie Presidente. Luigi, allora, mi hai detto che volevi fare... No, io visto che ci sono loro, visto che loro hanno posto la situazione, io una domanda me la sento di fare, perché non so loro che idea si sono fatti, però questo governo che è stato messo lì, in questa maniera per far tornare a posto i conti, per tagliare, a me siamo il governo di tagliatore di testa, ma questa è una mia idea, è del tutto personale, ma voi ritenete veramente che possa essere un interlocutore per l'ipica italiana e soprattutto se sarà confermato tutto quello che ci è stato detto, ma non è evidente che poi l'anno prossimo, se quest'anno avremo 250 e il bilancio l'anno prossimo avremo 170, perché questa è la situazione, se non ci sono correttivi dal punto di vista di riforma strutturale. Onorevole Masini. Guardava me? No, perché sono impallato per guardare me l'indica della telecamera. No, perché la domanda è interessante, affascinante, nel senso cosa fa questo governo? Io sono amante della libertà e del confronto e quindi mi auguro che esista ancora un Parlamento che sia in grado di parlare di argomenti che sono all'ordine del giorno, indipendentemente da una grande crisi che deve essere affrontata e che viene in questo momento affrontata da un governo tecnico e non politico, ma su questo, torno all'ultima parte della tua domanda, devo dire che è un po' il cane che si morde la coda, nella misura in cui che cosa succede l'anno prossimo. Devo dire che il comunicato del galoppo è molto semplice, innanzitutto per far sì che non succeda quello che tu stai dicendo, qualche cosa bisogna fare, bisogna cominciare a vedere se i costi della televisione sono costi legittimi oppure se può essere fonte di guadagni e di promozione, bisogna vedere se ci sono degli immobili che sono superflui nel portafoglio dell'ente che possono essere alienati, bisogna vedere se il costo della costruzione delle corse è troppo elevato rispetto ad una normale composizione di una corsa, sono felicissimo che anche l'associazione dei commissari di corsa sia entrata a far parte della consulta perché anche da loro noi vorremmo un conforto e un confronto se questo è lecito. Se è altrettanto lecito un costo di certificazione delle corse come quello che noi sosteniamo attraverso Unire Lab, su questo io vorrei capire qualche cosa di più perché negli ultimi tre anni ad esempio sono talmente precipitati i costi che delle due l'una o mi viene un dubbio che erano troppo alti tre anni fa oppure mi viene il dubbio che si spenda troppo poco ora e se si spende troppo poco che cosa succede? È certificazione o non è certificazione di trasparenza di corsa? Questo se lo chiede una persona che vive all'interno di questo settore e poi ci sono gli altri tagli che abbiamo previsto e che siamo disposti a sopportare anche un... nessuno dice il taglio ai montepremi? No assolutamente no, questo non lo dice nessuno bisogna dire uno se è sopportabile, due di che entità è? Tre come viene ridistribuito all'interno dei potropi, quattro che cosa c'è dietro l'angolo? Perché se come diceva mia nonna mi devo far tagliare la testa, me la faccio tagliata a un boia pratico e allora un boia pratico me lo scelgo io chi è il boia pratico che mi deve tagliare la testa e voglio vedere se poi questa testa magari riesco a salvarla per tre mesi, quattro mesi, cinque mesi e dopo di che scappo invece di farmi la tagliare subito. Mario hai toccato un tema degli ipodromi però vorrei andare prima in break pubblicitario, il secondo break pubblicitario poi vorrei concludere con il tema degli ipodromi perché visto che anche Pierluigi Langeo è interessato con l'ipodromo del Garigliano e il taglio anche agli ipodromi è una cosa fondamentale da parlarne perché sicuramente gli ipodromi sono dove si fanno le corse e quindi se non ci sono quelli sicuramente le corse non si possono fare per strada. Linea Romina e poi torniamo subito da voi. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità. Liedi di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. Anac, cavalli italiani, cavalli vincenti. La Varen Futurity e la Varen Forever presentano per la stagione di monta 2012 il grande capitano Varen. Il cavallo italiano più forte di sempre si sta confermando campione anche in razza come le grandi vittorie ottenute da suoi figli in tutto il mondo. Nelle prime quattro annate di produzione gli eredi del capitano hanno vinto oltre 60 gran premi, tra cui 21 gruppi 1 su tutte le piste più prestigiose del mondo. Nel 2010 Varen si è confermato come capo classifica in Europa, come padre di vincitori di gruppo 1 grazie alle affermazioni di Lana del Rio, nati in Cronos, Napoleon Bar e in basica viare Elisa America, che grazie alle sue tre affermazioni si è anche imposta nel Grand Circuit UET e vincitrice del Gran Premio Costa Azzurra 2011. Visita il sito www.varenfuturity.it per informazioni rivolgersi al dottor Oreste Trudi al numero 335 8253 425. Con Varen, corri nel futuro. Grazie a tutti. Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che devi avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere Eur Residenza Aquacetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, videocitofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifinitore di pregio. Residenza Aquacetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18 e 30. Residenza Aquacetosa Ostiense, residenze con carattere. A pochi chilometri da Roma è nato un centro di allenamento, riabilitazione e preparazione atletica per cavalli di tutte le discipline ipiche. Il centro è dotato di piscina coperta, utilizzabile tutto l'anno, giostra in acqua o water walker coperta, giostra in sabbia, tondino, pista in sabbia. Le strutture sono idonee alla riabilitazione e recupero atletico di tutti i cavalli destinati alla carriera agonistica e non. Trotto, galoppo, monta western, monta inglese, completo, salto stacoli, endurance, preparazione puledri. Visita il sito www.scuderiaclodia.it e viene a trovarci a Via Santo Stefano 22 000 61 Anguillara Sabazia in provincia di Roma. Centro di allenamento Clodia, il posto adatto per il tuo cavallo. Argomento basilare ed importantissimo quello della criticità del nostro settore che riprenderemo anche la prossima settimana perché sicuramente è la base di tutto il proseguo della nostra ipica. Sono in debito con la risposta da parte di Pierluigi Danico per quanto riguarda il taglio delle convenzioni al 40% circa agli ipodromi. Ricordiamo che gli ipodromi sono comunionali e privati e anche qui ti faccio una piccola proporzione. Gli ipodromi piccoli avendo meno dipendenti con questo taglio muoiono ugualmente? Allora incomincio a dire devi differenziare i propri tra quelli di proprietà comunale, i quali oggettivamente la convenzione si può far decadere per mancanza di risorse. E quelli privati. E quindi diciamo che il gestore poi dopo si può tutelare con una nuova gara perché se vengono a mancare le risorse, tra l'altro chi ha un tot numero di dipendenti può mettere i dipendenti in mobilità, quindi con due aspetti positivi. Il primo è che comunque la società non viene aggravata né del licenziamento né del costo dei dipendenti in mobilità. Il secondo è che comunque riesce a non avere meno contenziosi e poi riesce a rinegoziare. Sono 44 l'ipodromi in Italia. Io ho 42 però bisogna capire che cosa poi intendiamo per l'ipodromi. Scusami, ti volevo dire, quindi chiaramente gli ipodromi, poi gli ipodromi che uno, l'ipodromo di proprietà è una tragedia perché tutti gli ipodromi di proprietà che ci metti le patate negli ipodromi, tu quando hai una convenzione dalla mattina sera ti dicono che ti hanno il 40% in meno, non hai altre risorse, devi soltanto chiudere, non sei nemmeno in grado poi di manutenere l'impianto. Perché gli ipodromi che siano aperti o non siano aperti sono comunque centri di allenamento, quindi vanno manutenute le piste, vanno comunque manutenuti gli impianti di illuminazione, vanno manutenute le strutture. Non è che tu l'ipodromo è come un negozio che lo chiudi e poi quando lo riapri lo trovi come sta, perché no, sull'ipodromo ci sono le intemperie, quindi allagamenti, vabbè, lasciamo perdere, è una tragedia, però a questo punto ci vediamo. Pagina 1, noi possiamo dire che nel 95 gli spettatori nell'ipodromo erano 2.617.000, nel 2008 quando è stato fatto il piano gli spettatori sono stati 157.000, quindi nemmeno i civanzi di quello che era il 95. Quindi stiamo parlando di una situazione in 13 anni che era deteriorata. Però ecco qui, il nostro piano, sempre il piano, prevedeva invece, ma questo prevedeva, chiariamo bene, la mia ironia non è sul fatto che il piano, il piano è un piano serio, è sul fatto che il piano non è stato minimamente preso in considerazione da chi è venuto dopo Zaia, tutti gli altri susseguenti. Il piano cosa prevedeva invece? Invece del miliardo e mezzo di scommesse, di miliardi e mezzo che raccogliamo oggi, prevede, questo anche sulla rete esterna ovviamente, prevede che nel 2013 si facevano 3 miliardi e 2 di scommesse, Luigi non ti riesco a vedere, però tu mi stai, spero che tu non stia ridendo. 3 miliardi e 2 nel 2013, quindi significa noi nel 2013 passeremo da una diminuzione del 45% di quest'anno a un aumento del 100% del monte premi, sulla base sempre del piano che sarebbe dovuto essere preso. Ma la cosa, la novità più, diciamo, del settore ipodromi la più saliente è questa, che passiamo da 157 mila spettatori del 2008, saremmo passati a 700 mila, udite udite, paganti. Quindi ecco che allora i rappresentanti degli ipodromi hanno bene da essere lieti, perché sanno che soltanto tra un anno, oramai manca un anno, che loro vedranno i loro ipodromi ben 700 mila paganti. Il ministero potrà mettere mano a questo piano o no? Allora il problema è questo, qui c'è una volontà politica, io le devo dire la verità, questa volta sono pessimista, adesso bando, cioè la vostra compagnia, quella di Mario, gli interventi che ho sentito, anche quello di Viviani, mi hanno un po' messo in buon umore, perché vedo poi che nei momenti difficili, lì pica anche Roberto Faticoni che sta lì, alla fine poi mi mette in buon umore, perché vedo che lui è combattivo, è determinato, però vi devo dire la verità, cioè la situazione è realmente, io sono un ottimista, cerco di vedere sempre l'aspetto positivo di un bicchiere mezzo piano in buon umore, questa volta vedo una situazione veramente complessa, dobbiamo cercare effettivamente di aggrapparci alle indicazioni che ha dato la politica, ecco perché mi sono portato il piano e non c'è niente che noi possiamo fare, che noi abbiamo fatto per opporci a che si fosse, perché ditemi solo una giornata di sciopero che è stato fatto da parte di qualcuno perché si è cercato di applicare il piano, nessuno ha detto nulla, chiunque è stato messo al governo della Repubblica Italiana a governare l'Ente Unire, noi abbiamo assecondato quello che era il timoniere di turno, oggi nessuno ci può vedere, io dico soltanto, cioè io sono ottimista solo per il nome, così c'è Passera, che diciamo invece di un brutto nome, dice Passera dovrebbe, passera dovrebbe, nel decreto sviluppo, concordare quindi con il Ministro della Repubblica oggi, del MIPAF, quindi col nuovo Ministro della Repubblica, con il dottor Catania, dovrebbe concordare questo piano di rilancio del settore. Questa è l'unica speranza che abbiamo signori e non ci sono né altri treni né altre ipotesi. Su queste parole ti inizio a salutare Pierluigi, grazie di essere stato qui con noi, ti ospiteremo sicuramente per le prossime volte perché sicuramente continueremo. Vabbè, se veniamo a occupare l'Unire, anche per cambiare cosa non ci ospiterete così tempo. Grazie a loro, a loro Masini, la battuta me l'hanno suggerita prima, dal bunga bunga la passera, siamo passati, però prendiamola anche un pochino. Speriamo che non sia un passero solitario, come diceva il poeta, ma che stia attento anche ai problemi nostri, che non siamo quattro gatti, ma che siamo veramente una grande famiglia e soprattutto un popolo dei lavoratori. Grazie, grazie Mario, grazie a Luigi Migliaccio, ci vediamo sicuramente su questi schermi. Ringrazio anche Roberto Faticonico. Roberto, una battuta conclusiva, hai parlato poco, ma quando hai parlato hai parlato con quello che pensavi di dire. Ma guarda, non c'è bisogno di parlare ormai, io dico non c'è bisogno di parlare, parlano loro due, che fanno parte del combinato di crisi, che io continuo a dire che era l'unica cosa seria. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana, io vi ringrazio di essere stati con noi e vi dico sempre, con No Problemi P, che sei sempre a cavallo. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti.